Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness e benvenuti a questo nuovo video su Battlefield 4, il secondo video della serie Guida al Car Armato. Mi avete chiesto dei video su come usare efficacemente il Car Armato e io ovviamente ve li faccio subito. Oggi parleremo della copertura. La copertura è una cosa che moltissimi, soprattutto gente alle prime armi col carro, si dimentica molto molto facilmente ma che è davvero essenziale. Quindi per voi ho questo gameplay, soffero via Goalmund, difesa, sto giocando con il Nabbo di Cod, ha un canale YouTube anche lui, quindi magari vi lascio il link in descrizione. Lui sarà il mio gunner, che è ovviamente importantissimo avere un gunner buono. E subito mi vado a piazzare in questa posizione perché so che loro hanno più carri di noi, che siamo svantaggiati a livello di blindati e che quindi serve giocare in modo difensivo. Non posso lanciarmi di petto, anche se in realtà di petto non ci si dovrebbe lanciare mai, anche se abbiamo un carro. Molti pensano, ah un carro, ho tantissima armatura, posso andargli addosso, non mi faranno niente e si sbagliano di brutto. Questo lo dovete imparare a fare. Dovete buttare giù gli elicotteri praticamente a colpo sicuro. Vi consiglio il sabot, li buttate giù che è una meraviglia e poi li finite con l'HMG Colassiale. Tornando al nostro discorso, dovete usare la copertura come si deve. Come vedete, loro non hanno mai vista completa sul mio carro e se mi vedo non mi vedono talmente poco che prima di colpirmi devono sparare tre o quattro colpi. È la stessa cosa che sta facendo anche il mio avversario. E vedete come mi muovo di copertura in copertura, non sono mai scoperto. Sono sempre in una posizione di vantaggio e qua il nostro avversario fa il suo errore. Perché? Perché abbandona la copertura e a questo punto io ho linea visiva su di lui e lui invece no. E come vedete lo scontro ovviamente volge al nostro vantaggio perché un colpo dopo l'altro l'abbiamo buttato giù come niente. Arriva anche l'altro carro che fa esattamente lo stesso errore, come vedete è in campo aperto, io vedo tutto. Qua ho un attimo di crisi perché? Perché mi sono finiti i colpi e quindi boom, ci metto un colpo in più. Ho bisogno di tornare sotto la mia copertura ma dato che è lì, ce l'ho subito lì e sono protetto. E butto giù anche questo e quanta vita mi hanno tolto al carro? Trenta? E io ne ho distrutti due. È così che dobbiamo usare la copertura. Vi ricordo che comunque un geniere può distruggervi con due colpi. Due! Non sono tanti. Quanto ci mette? Tre secondi di ricarica per l'RPG più sparare il colpo, va bene, abbondiamo. In otto secondi vi ha buttato giù come niente. Perché il primo colpo da dietro vi ha disattivati, immobilizzati, non potrete più muovervi. Il secondo colpo vi ucciderà. Quindi dovete usare la copertura, dovete sempre pushare insieme alla vostra squadra. Non dovete mai andare voi assolutamente in prima linea. Magari siete voi la prima linea, ma non più avanti. Dovete sempre avere dei genieri insieme a voi e dovete sempre essere in grado di affrontare i genieri nemici. Come vedete adesso il New Gunner fa un ottimo lavoro perché butta giù davvero tutta la fanteria. Ma come vedete io sto sempre in una posizione di vantaggio. Dove io riesco a vedere gli avversari e loro fanno fatica a vedere me. Dove io ce li ho spottati e loro non sanno nemmeno dove sono io. Qua ne colpisco quel carro altre due volte. Quello adesso per un po' non può venirmi addosso. Ed è così che dobbiamo giocare col carro. Non pigliare e lanciarci in mezzo. Il posizionamento e soprattutto la copertura è importantissima. E un'altra cosa bellissima del carro è che cazzo siamo un carro. Noi le cose le possiamo buttare giù. Noi abbiamo copertura, la fanteria davanti a noi praticamente non ne ha. Perché gliela possiamo buttare giù. Quindi perché non sparare un colpo a questo muro per buttarlo giù? Dietro ci sarà sicuramente qualcuno. E così facendo do anche libero sfogo all'arma del mio gunner. Perché adesso come vedrete io butterò giù il muro e se c'è dietro qualcuno innanzitutto gli faccio un sacco di danno. E poi comunque lui può uccidere tutti. Qua nel frattempo faccio fuori un altro carro che come vedete è venuto da me da solo. È ovvio che vinco io. Perché? Perché io ho più vita, avevo la protezione attiva che adesso ho usato senza motivo e per di più ho la mia squadra a supportarmi. Ed è così che dobbiamo giocare soprattutto se siamo in svantaggio. Se magari fossimo noi due cari e loro uno allora si potrebbe anche andare. Vedete adesso butto giù il muro e ovviamente la loro MCOM è scoperta. Ed ecco qua un geniere che mi spara e guardate quanta vita mi è rimasta. Dovete sempre stare attenti ai, innanzitutto ai cicquattristi perché vabbè non parliamo. E poi ovviamente ai genieri. E così ho fatto questa bella partita insieme al nabbo di code che ringrazio per il gameplay. E sfortunatamente un carro si era posizionato meglio di noi in una zona che noi non avevamo visto e io ero distratto. E così ci ha uccisi. Questo è tutto per questo video. Noi ci vediamo al prossimo. Ricordatevi di usare la copertura col carro. Bella ragazzi. Ciao. Ciao.